... Cerca di spingere su un piede per farlo per i casi. Non mi provi a farli fare l'altro passetto. Bravo. Tornata su, ora ha fetto al latte, con l'olmina. Andiamo alla mamma, andiamo alla mamma. Eh? Lorenzo? Andiamo, dai. E uno, e due, forza, 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 forza. Dai, cerca di caricare, spingi, forza, dai lì la sensazione che spinge sul piede, bravo. Bravo, amore, dai la mamma. Ciao. Dai. Grazie. 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 Grazie.